Musica Presentata alla città la nuova ambulanza dell'associazione Mani Amiche di Corso Mazzini acquistata con le donazioni dei cittadini del 5x1000 L'autobulanza è stata intitolata al Presidente Antonio Lodato, scomparso diversi anni fa mentre la benedizione del nuovo mezzo è stata impartita da Sua Eccellenza, Vorazio Soricelli Questa è la nuova ambulanza che abbiamo acquistato di recente ed è stata dedicata al nostro ex Presidente Antonio Lodato che ci ha lasciato prematuramente e anche di altri cittadini che hanno avuto i nostri servizi non di cava per cui noi lavoriamo su tutta la provincia I nostri servizi, come parecchi sanno, sono del tutto gratuito noi non chiediamo niente al momento in cui viene prestato un servizio di trasporto e i cittadini che hanno avuto i servizi spontaneamente se vuole può passare in sede per donare una offerta senza dare nessuna spiegazione quindi l'offerta viene accettata senza chiedere perché e per come altri servizi che noi diamo abbiamo presidi sanitario tipo sedia R3 e stamberre che possono servire che anche questi vengono dati in comodato o d'uso gratuito a chi ne fa richiesta Siamo un gruppo di volontari, tutti prestiamo la nostra opera sempre a titolo gratuito e nessuno percepisce nessun compenso Siamo sul territorio da diversi anni e oltre al trasporto inferme che è l'attività primaria facciamo altre attività come quella di collaborazione con il 118 per emergenze varie qualora ci viene richiesto il nostro supporto e poi inoltre facciamo un servizio di pronto farmaco cioè una consegna di farmaci a domicilio su richiesta dei pazienti dell'agente comune ogni anno noi organizziamo corsi di formazione a questo proposito io vorrei lanciare un messaggio ai giovani e meno giovani di avvicinarsi all'associazione per poter essere un domani i nostri soci